Cari amici, oggi si parte per Monte Murano, facciamo una bella escursione, la giornata è pessima perché sta piovendo ma noi non abbiamo paura di nulla e siamo attrezzati di tutto punto, maglia tecnica, mimetica, vegetata, abbiamo il parca, abbiamo la cerata, lo zaino con l'attrezzatura che ritengo necessaria per una giornata, poi la vedremo e ci aspettano di sotto quindi ci vediamo dopo, ciao a tutti! Ciao ragazzi, siamo in viaggio verso Monte Murano, mancano ancora parecchi chilometri ma qui stati guiando, nel caso questo rimarrà l'ultimo documento filmato e ci verranno a recuperare con il soccorso alpino, ci vediamo tra un po', spero, ciao a tutti! Siamo quasi alle grotte di Frassassi e ci sono i primi allagamenti, giriamo verso Genga, San Vittore e vediamo un po' ragazzi come procede qui, per piove, piove, campo a nocicchio, ok, ci risentiamo tra un po', cari ragazzuoli, siamo appena tornati dal pranzo da Maria, qui di Luvia come vedete, un bellissimo paesaggio però mi sa che la nostra escursione va un po' a puttane, comunque il paesaggio è sempre stupendo, vabbè c'è il nostro amico Michele che non vuole farsi riprendere ma adesso vedremo di andare da qualche parte, decidiamo un attimo il luogo, magari quel cucuzzolo lassù e ci riaggiorniamo, a dopo. Siamo a Cerquetto di Genga e stiamo faticosamente marciando qui per questa specie di sentiero, non so dove arriveremo e come ma ci proviamo, stiamo sotto la pioggia, il panorama è bello con queste nuvole che circondano le montagne, purtroppo la macchina non la posso tenere sempre accesa perché si riempie d'acqua ma spero che alla fine venga qualcosa di buono. Allora qui siamo da Piero Sara a Monte Murano, come vedete la strada è in pessime condizioni, qui, tuttavia noi non ci fermiamo, qui la falesia speriamo non ci crolli addosso e continuiamo, vediamo qua. Niente male, prima mi è caduta la macchina fotografica in mezzo a una bella pozza d'acqua ma sembra che funzioni, speriamo che continui così perché non ho assolutamente voglia né soldi di comprarne un'altra, ci vediamo dopo. Cari amici ma soprattutto care amiche, la macchina fotografica ci ha abbandonato completamente, quindi niente, abbiamo fatto un po' di foto con il telefono e il viaggio sta finendo perché qui ha diluviato, comunque è stata una bellissima scampagnata in mezzo ai boschi e speriamo la prossima volta di poter fare un reportage un po' più completo senza distruggere macchine fotografiche, telefonini e cose varie. Ciao a tutti! Ragazzi guardate che spettacolo meraviglioso, è stata una giornata che ci siamo mollati tutti, pioggia go go, anche adesso sta piovendo anche se poco però io dico che valeva la pena fai una carrellata e che ne dite? Montemurano Grazie a tutti! Grazie a tutti!